è fischiato a Biglia al 56esimo su fallo di Miranda che ha anche rimediato il rosso e quindi per il riepilogo dei cartellini giallo per D'Ambrosio al 45esimo e rosso per Miranda al 54esimo per la Lazio invece Amniti e Edith, Radu e Lulic al 45esimo tutti e tre e Palolo al 52esimo allora ora andiamo a una mini pausa musicale e ci mettiamo in collegamento intanto nel frattempo con il nostro amico Luca Rossetti di cuore giallorosso, a tra pochissimo il ritorno porta addosso mal di testa, mal d'anima nel silenzio ognuno a piano ruga dentro di sé a un dal coma proverò a riemergere dalle nette mie risergiche oh madonna che ora era, era oggi o ieri sera, venti notti e poco giorno me ne sento ora che torno, ora che la fiesta è andata e rientriamo in diretta alla Tana dei Lupi e ci ha raggiunto via telefono il nostro amico Luca Rossetti di cuore giallorosso ciao Luca ciao Matteo, ciao Ale, buonasera a tutti buonasera allora Luca anche con te visto che so insomma che anche tu hai parecchie cose da dire ti chiedo un giudizio sulla partita contro la Sampa Genova sì allora io credo che sia una partita considerando solo quello che è successo sul campo e credo che abbiate capito che cosa intendo di cui ci può dire veramente di tutto di più perché secondo me ci sono stati momenti dove la Roma ha giocato malissimo momenti dove la Roma invece ha giocato molto bene mi riferisco per esempio alla prima metà del secondo tempo e poi paradossalmente ha preso due gol nel momento in cui stava spingendo di più insomma però al di là di questo io credo che abbia pesato molto l'arbitraggio di Mazzoleni insomma perché si può criticare la prestazione si può dire quello che si vuole però ci sono stati due errori gravi da parte del direttore di gara che hanno condizionato in maniera molto importante anzi secondo me addirittura decisiva la partita e mi riferisco alla punizione quantomeno ridicola concessa la Tandoria per il 2-2 e per il 3-2 anzi e poi il rigore clamoroso non concesso a Giego per fuorigioco che non c'era proprio dello stesso attaccante giallorosso insomma io vorrei focalizzare l'attenzione non tanto sugli episodi ma sull'atteggiamento che ho visto da parte di molti tifosi della Roma in relazione a questi episodi perché in altri tempi questo è un discorso che ho visto fare per esempio a Cristiano in questi giorni che condivido in pieno tra l'altro saluto Cristiano che sicuramente ci sta sentendo insomma una volta si gridava il complotto si gridava al ladro si gridava al furto oggi invece addirittura noi siamo diventati come dice lo stesso Cristiano forse anche troppo sportivi noi siamo quelli che due anni fa abbiamo chiesto scusa all'Empoli per un rigore dubbio nella partita di Coppa Italia rigore che poi tra l'altro a termini di regolamento poteva anche starci ma poi siamo diventati anche quelli insomma siamo questo plurale maiestatis per dire con alcuni tifosi siamo diventati quelli che addirittura dicono che non bisogna parlare di episodi quando la squadra gioca male questo è un modo di vedere il calcio che sinceramente non mi appartiene perché io credo che la squadra farà criticata sì per la prestazione perché secondo me la Roma avrebbe meritato al massimo un pareggio anzi avrebbe meritato un pareggio perché penso sarebbe stato il risultato più giusto però le critiche vanno fatte alla prestazione ma una brutta prestazione secondo me non può implicare che sia giusto mazzolare la squadra dal punto di vista arbitrale Sì io ma ovviamente insieme agli errori arbitrali dal punto di vista della squadra è mancato qualcosa io appunto direi proprio perché non penso sia giusto chiamare alla sparra degli imputati tutta la squadra secondo me alcuni giocatori hanno giocato anche oltre la sufficienza ti chiedo però una parte forse era in ritardo sia di condizione oppure di attenzione mi riferisco al reparto difensivo ma secondo me sono in pochi se analizziamo proprio la prestazione quelli che hanno giocato bene perché ho visto molti giocatori in verità sotto tono perché sì per esempio Totti quando è entrato ha dato due o tre palloni buoni beh Scesni pure direi Scesni ha fatto una bella partita incolpevole sui gol sì ha fatto la sua partita anche Rudiger secondo me nel complesso se l'è incavata però io ho visto anche tanti abbastanza non dico disastrosi perché poi disastroso è stato solo per Milan però ho visto tanti altri un po' non proprio in giornata mi riferisco anche a giocatori come Nainggolan e Perotti da cui siamo abituati insomma a vedere prestazioni di altro livello io direi anche Bruno Perez che si è messo a fare dei dribbling in zone assurde del campo secondo me poi Bruno Perez partita è insufficiente a parte che ha segnalo però sì insufficiente anche lui sì sì anche lui ha fatto un po' tra l'altro anche facile ecco per esempio fra quelli che metterei al di sopra della sufficienza eccomi se tu parlavi di Bruno Perez io mi sposterai sull'altro lato Emerson pure io direi Emerson sì sì Emerson ha fatto una buona partita ha fatto un assist Giaco sì ha lottato io ho visto fare anche partite migliori però nel complesso insomma mi è anche piaciuto se hai mangiato un gol insomma di testa che avrebbe potuto indirizzare la partita in un altro modo ne ha fatto anche un altro molto bello tra l'altro quello che gli è stato annullato però quell'obiettivamente era giusto annullarlo perché lì fuori gioco c'era però sì ci sono stati anche dei giocatori che si sono comportati bene ripeto a me come prestazione di per sé a parte un po' i primi minuti i primissimi minuti del primo tempo e i primi 25 del secondo non è che sia piaciuta tanto la Roma però secondo me pesano di più gli episodi fra l'altro ripeto le partite per me si possono anche vincere giocando male perché abbiamo commentato nell'ultima settimana partite che la Roma ha vinto senza senza strafare senza giocare in maniera sfavillante su tutte sicuramente quella con il con il Cagliari però è vero che al netto degli episodi quindi levando la punizione della 3 a 2 e dando il rigore al 95esimo magari poi quello uno dice lo può pure sbagliare il rigore sì però anche ammettendo che quel rigore fosse stato sbagliato comunque la Roma poteva uscire da Genova almeno con un pareggio che non ti cambiava la vita dal punto di vista della classifica perché avendo vinto la Juventus fare un punto farne zero non è che cambi più di tanto però dal punto di vista psicologico sicuramente uscire da una trasferta difficile perché come vi dissi anche in occasione di Genova Roma giocare a Genova è sempre difficile uscire con un punto fa più morale insomma sicuramente fa più morale che sarà utile invece martedì sera quando giocheremo contro la Fiorentina insomma la squadra di Paolo Sosa che è una squadra difficile da leggere da capire molto ambigua molto altalenante con un insomma Bernardeschi però squalificato Bernardeschi squalificato comunque una rosa di qualità soprattutto in alcuni elementi come Bo Cavalero come Kalinic come Iricic chiesa che sta esplodendo chiesa che sta esplodendo insomma una squadra che temi e se sei quanto più che altro? Io credo che la Fiorentina in generale sia ogni anno un'eterna incompiuta che è una squadra che sembra che sia lì per fare il salto di qualità decisivo che è una cosa che poi spesso si dice si dice della Roma cioè alla Roma manca sempre come si dice a Roma un soldo per fare una lira però la Fiorentina veramente sembra sempre che possa diventare una grandissima e invece poi ha dei blackout durante la stagione che la rendono come dicevi giustamente tu Matteo una squadra indecifrabile io credo che sia una squadra che abbia comunque una rosa di qualità importante che sicuramente va non dico temuta perché forse sarebbe esagerato però va rispettata veramente al massimo manca Bernardeschi squalificato credo che ci siano anche altri giocatori che hanno dei problemi fisici si era parlato per esempio di una contusione al ginocchio per Kalins anche se poi credo che alla fine recupererà poi insomma anche se non c'è Bernardeschi c'è Ilic c'è Sponara giocatore secondo me di altissimo livello che è stato comprato nei giorni scorsi dalla squadra viola e poi ci sono in mezzo al campo giocatori come Badel che alla fine non si è mosso purtroppo da Firenze tra l'altro poteva arrivare a Roma proprio pochi giorni prima dello scontro diretto c'è Besino un giocatore che a me piace veramente tantissimo già da quando stava a Tempoli dietro non ha grandi campioni però solitamente se ci fate caso guardando un po' i numeri la Fiorentina è sempre una delle migliori difese del campionato a prescindere dagli uomini a prescindere poi da chi è l'allenatore quindi è una società che sicuramente lavora bene è sempre ben allenata è sempre un gioco piacevole e interessante quindi secondo me sarà una partita difficile però io credo che bene o male la Roma riuscirà a portarla a casa però stiamo attenti perché è una squadra che non va sottovalutata perché proprio perché essendo una squadra ambigua è capace nel bene e nel male di tutto sì non sai mai cosa aspettarti effettivamente sì è una squadra molto a me il suo allenatore piace molto gli manca sempre qualcosa come squadra ma non riusciai neanche a dire esattamente cosa secondo me un grande fattore sarà che giochiamo in casa perché noi a Franchi invece solitamente loro ci leggono molto bene la partita e la preparano soprattutto molto molto bene secondo me quello che manca alla Fiorentina Matteo fondamentalmente è che se ci fai caso c'è in difesa il giocatore più forte che hanno è Gonzalo Rodriguez che è bravo ma non è neanche più giovanissimo secondo me servirebbero grandi difensori e poi servirebbe un grande portiere perché Tadaruciano si ha fatto vedere di avere qualche qualità però insomma non è ai livelli di Scemi non è ai livelli di Reina non è ai livelli di Buffon non è ai livelli di Donnarumma insomma non ha di Andano non è un portiere all'altezza delle grandi quindi secondo me pur avendo ecco questo è un po' un paradosso numeri ottimi dal punto di vista difensivo la Fiorentina non ha grande qualità in porta e in difesa secondo me è quello che veramente le manca per diventare una signora squadra e poi non ha secondo me grosse alternative in attacco nel senso non per quanto riguarda esterni o seconde punte varie ma come c'entra avanti perché al di fuori di Kalinic dopo Kalinic c'è Babacar io non levo però segna tanto eh io ce l'ho sì segna tanto però un giocatore insomma dico in tutta franchezza io nella Roma non vorrei mai no vabbè ovviamente però non è male non è male senti io ti faccio un'altra domanda invece su la Coppa Italia si sta giocando ora Inter-Lazio tra le altre cose 1-2 per la Lazio ed entrambe le squadre con 10 giocatori espulsione per Milano per Radu per secondo giallo e ti chiedo quale preferiresti affrontare qualora passassimo contro il Cesena allora intanto so che non si risponde a una domanda con una domanda però ti chiedo chi ha segnato il 2-1 perché ho visto fino al 2-0 fra l'altro obiettivamente mi pesa dirlo ma la Lazio stava ampiamente meritando quindi chi ha fatto il 2-1 Brozovic ha segnato Brozovic so che è stato espulso Radu sì al 76esimo per atterramento insomma allora guarda un po' di vista prettamente tecnico sono sincero preferirei la Lazio però a parte insomma vabbè al di là del 13 maggio i derby precedenti di Coppa Italia li ha vinti la Roma ricordo due con capelli in panchina e poi il 2011 con semplice Corzanieri e Reia sulla panchina della Lazio però quindi dal punto di vista tecnico ti direi la Lazio secondo me spesso li soffiamo anche in Coppa Italia ricordo i famosi 4 derby persi nel 98 insomma voi eravate eravate giovanissimi eh sì fin troppo nel senso che fin troppo giovane io invece lo ricordo un pochino più fresco nonostante siano passati tanti anni però dico dal punto di vista tecnico la Lazio però io ho sempre paura perché il derby è una partita che sfugge a qualsiasi pronostico dal punto di vista proprio della qualità è chiaro che sarebbe più difficile giocare giocare con l'Inter anche perché vabbè stasera non so l'Inter che cosa abbia avuto però l'Inter che dal punto di vista almeno dei risultati stava bene era gasata insomma in un momento importante di forma e poi sarebbe stato secondo me ancora più difficile incontrarla fra un po' che già poi lo faremo fra pochi giorni tra meno di un mese c'è Inter Roma a San Siro e anche quella sarà una partita bella difficile quindi non lo so sono due squadre che io ho in antipatia praticamente allo stesso modo e quindi diciamo che è indifferente quale delle due incontriamo io spero solo che la Roma chiunque delle due sia la affronti nel modo giusto perché sono partite andate al ridotto